L'illuminazione non è un posto dove andare, è una realizzazione. La realizzazione non è qualcosa che uno può fare forzatamente. Se intensifichi le tue energie sufficientemente e diventi unidirezionale, è un evento naturale, l'apertura di una porta, non un altro posto dove andare. Sembra essere lungo e difficile, perché la maggioranza delle persone sta facendo un viaggio, dove non sussiste distanza. Questo è un giorno che è significativo per questa realizzazione, che sembra essere accaduta 2500 anni fa a un uomo che oggi chiamiamo Buddha. Non è l'unico a cui si è successo, ma è rappresentativo di questa semplice realizzazione, che non è un posto dove andare. È semplicemente aprire un occhio realizzando qualcosa che era già qui. Sembra tutto un mondo completamente nuovo. Ed è un mondo completamente nuovo, dal mondo dei sensi al mondo della realizzazione. È un mondo completamente nuovo. Un mondo nuovo non significa che siamo andati su un altro pianeta. Un mondo nuovo significa che siamo diventati un mondo nuovo. Chi siamo è diventato una nuova possibilità. Nessuno può impedirci di realizzare ciò che è già qui. Jai, 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 Mahadeva Jai, 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 Mahadeva SIVA SHIVA 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 SHIANKARI ADI ANANTA Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Sì, sì.